Neanche il tempo di metabolizzare la vittoria sofferta con la fermana che il Pescara si gioca domani sera alle 21 il secondo bonus casalingo in tre giorni, stavolta con il Modena nel turno infrasettimanale del martedì con una squadra che sembra aver ripreso il ritmo giusto dopo qualche passo falso iniziale e punta in alto. La squadra di Auteri che anche con la fermana ha mostrato i soliti problemi di tenuta del risultato e di difesa poco solida non può certo permettersi di preoccuparsi del livello dell'avversario se vuole fare il salto di qualità e riprendersi il primo posto in classifica. Di certo c'è che il nono turno del torneo ha in parte ridotto il gap dalla Reggiana passato da 7 a 5 punti e che nel decimo c'è un'interessante Reggiana Ancona Matelica da cui il Pescara potrebbe trarre vantaggio recuperando altri punti su due squadre che lo precedono in graduatoria. Per farlo sarà indispensabile dare continuità a un gioco che si vede solo a tratti e un sistema di gioco ancora da capire con il 4-2-3-1 che dopo il cambio di sabato tiene troppo lontano dalla fase conclusiva del gioco Pompetti, centrocampista di maggior qualità a vantaggio di Memushai che invece sembra aver perso il passo dei tempi migliori. In attacco la buona notizia è che sembrano essersi sbloccati De Marchi e Ferrari con tre gol a testa e una rete per uno nell'ultima sfida con la fermana, il che vuol dire che almeno davanti il problema non c'è. Il problema è in difesa con la squadra che dà sempre l'impressione di poter prendere gol anche dagli attacchi meno titolati, cosa che in un modo o nell'altro infatti succede puntualmente in ogni gara, anche all'Adriatico. In difesa mancherà Cancellotti fermato dal giudice sportivo dopo l'ammunizione con Drudi ancora in forze e con Ingrosso e Iglianes centrali e forse Zappella che passerebbe dietro. In attacco molto dipenderà dal modulo se Euterri darà spazio al 4-3-3 toccherà di nuovo a Speranza e Dursi con Ferrari al palo e De Marchi titolare al centro almeno all'inizio. Al centrocampo mancherà ancora Rizzo e spazio di nuovo a Diambo in porta di Gennaro migliore in campo con la fermana.